Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario Gigi il milionario Pronto? Migliore amico! Ale No, Mazzoli, no Come no, Mazzoli, no? Mazzoli, alle sette e mezza Eh, sono ancora a lavorare, Gigi Mazzoli, non è colpa mia se tu lavori in miniera e io sono al principe a fare sauna e palestra e bagno turco Ma la vuoi finire, questa storia? Ma è possibile che non lavori mai neanche un'ora? Mazzoli, Mazzoli, io a me basta lavorare un'ora Cioè, capisci la differenza tra quantità, tra parentesi, Mazzoli e qualità, tra parentesi, io Ascolta, Gigi No, ma scusami, vogliamo parlare di Giba? Eh, cosa ha fatto Giba? Cosa ha fatto? No, non hai capito Cioè, stamattina è passato sotto il mio ufficio Eh? Si è fatto offrire la colazione Ovvio, è normale No, Mazzoli, ma aspetta un attimo Eh? Scusami, non è normale, Mazzoli, sai perché? Eh? Perché era dal 27 che non mangiava Ma non è vero Mazzoli si è fatto quattro spremute, tre craffeli, sei brioche, due caffè, un cappuccino Eh? E poi una frittata di cipolle Ma non è vero Mazzoli ha pagato 170 euro di conto Ovviamente, ovviamente la sto 500 Eh sì Cioè, di mancia Scusami, non voglio lasciare 323 di mancia? Gigi, sono triste, sono molto triste, Gigi Ah, Mazzoli, dammi una bella notizia, dai Oltre a questa No, sono triste perché stanno passando i giorni velocemente E tu tra un po' parti e stai via 40 giorni Io sono disperato Mazzoli A parte che domani o dopo passo a farti il salottino Io Sì, ma non venire con la macchina da imbarazzante Eh, Mazzoli, secondo te posso venire a piedi? No, Gigi, dai Veramente, quella macchina lì non si può guardare, Gigi Mazzoli, allora, scusami Sono da dieci giorni lì fuori che stanno stanzionando Non so se le hai viste Le hai visti? Chi? I nani I nani dove? Ci ho sei nani lì sotto perché mi stanno tenendo il posto Ma sì Ascolta, i tuoi nani non li ho mai visti Ci conosciamo da vent'anni io, te Non ho mai visto Mazzoli, 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 uno l'hai visto E quale sarebbe? Eh No, io non sono un tuo nano, Gigi No, Gigi, dai Non puoi rinunciare Come sarai? Non puoi rinunciare alle vacanze e stare a Milano solo per me? Sì Cioè, ovvio, è ovvio, ma è certo Ho già trappato i biglietti Ma dove vai, scusa? Dove vai? Quaranta giorni di vacanze Dove cazzo vai? Mazzoli, Mazzoli Hai penna e calamaio e un pezzo di carta, eh? Ce l'hai? C'ho il computer davanti, se vuoi Vuoi fare una sfida di geografia? Mazzoli, allora, clicco solo Vado a Wellington Dov'è Wellington? Aia Wellington in Australia No Mazzoli, ti posso essere andato soltanto a 3.000 km di distanza Di solito vai a 30.000 Una volta ti sei avvicinato, Mazzoli E non è in Australia In Nuova Zelanda In Nuova Zelanda, vabbè, è lì vicino, dai Sì, come dire, Italia e Siberia Ma che cazzo vuol dire? No, no, vabbè, non sono afferrato in geografia Però in matematica e in storia sono, cioè, il numero uno del mondo In storia Puoi chiedermi qualsiasi Aspetta che vado su Google Stoli, stoli Allora, mese e anno e l'inizio della seconda guerra mondiale Mese e anno La guerra era tra il 1939 e il 1945 Ma cazzo è veloce, eh, cosa c'hai? La venti è veloce, la banda larga E diciamo che iniziò nel 1939, se non sbaglio, il primo di settembre Con l'invasione della Polonia da parte della Germania Che cosa sei? Wikipedia Vabbè, Gigi, dove cazzo vai 40 giorni? Non mi puoi abbandonare, io soffro Stoli, partiamo con un tre giorni A vedere la città proibita Che? 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 Se è proibita non lo posso sapere Proibita Ma Stoli, hai visto Ugo Tognatti? Rituala La seconda parte la sentirete domani perché abbiamo fatto 27 minuti di chiamata Ricordiamo che Gigi avrà solo il suo satellitare E c'è solo una persona che sa il suo numero dei satellitari Indovinate un po' chi è GIPA